Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi particolarmente ricca di novità perché parleremo non solo di iPhone 13, perché è stata una settimana veramente ricchissima di rumors su iPhone 13, ve ne ho anticipato qualcuno infatti sul mio canale Instagram, se non mi seguite correte a farlo, ma parleremo anche del nuovo iPad mini 6, quello senza cornici e senza il tasto home, ma anche di iOS 15 e dei dispositivi su cui arriverà e su quelli su cui invece questo aggiornamento non sarà disponibile, perché ce ne saranno. Partiamo! Direi di partire proprio da iOS 15, l'aggiornamento che arriverà a giugno e che per la prima volta dopo anni taglierà la compatibilità con alcuni device. Infatti sia iOS 14 che iOS 13 non hanno mai ridotto il numero di dispositivi compatibili. Questo vuol dire ad esempio che un telefono come l'iPhone 6S è stato supportato in questi due anni esattamente come l'ultimo iPhone 11 Pro Max. Attualmente l'iPhone 6S ha le stesse caratteristiche, la stessa versione software dell'iPhone 11, anzi 12 Pro Max. E questo diciamo per chi è abituato agli smartphone Android in cui invece generalmente gli aggiornamenti arrivano per un anno o due è sicuramente una cosa fantastica, però con iOS 15 le cose potrebbero effettivamente cambiare. Ci saranno infatti due vittime nel mondo iPhone che saranno rispettivamente l'iPhone 6S proprio e un altro device che come l'iPhone 6S condivide la stessa architettura e quindi diciamo le stesse prestazioni con iOS 14 che probabilmente per i miglioramenti che sono previsti per iOS 15 non andrà più bene e sto parlando dell'iPhone SE di prima generazione. Lì la motivazione potrebbe essere anche un'altra, ormai iOS è pensato per gli schermi più grandi di 4 pollici e l'iPhone SE è infatti quello di prima generazione l'ultimo con uno schermo così piccolino. Non solo questi però saranno i device a non supportare il nuovo aggiornamento di quest'anno ma spostandoci in ambito iPadOS salteranno l'iPad di quinta generazione, l'iPad Air 2 e l'iPad mini 4. Anche questi dispositivi non dovrebbero quindi ricevere per le stesse motivazioni date per gli iPhone l'aggiornamento ad iPadOS 15. Chiaramente non preoccupatevi perché non ricevere l'aggiornamento software non vuol dire che questi dispositivi non potranno più essere utilizzati perché l'App Store continuerà a funzionare normalmente, le applicazioni si potranno scaricare, aggiornare e soprattutto il device continuerà a funzionare. Lo dico perché so che qualcuno ogni tanto si spaventa quando affermo che un dispositivo non verrà più supportato. Prima di passare al VR di Apple perché ci sono novità anche in quello, vi volevo segnalare dato che molti di voi hanno uno smartphone 5G oggi che potete finalmente utilizzare il 5G a prezzi umani come grazie alla nuova promozione di Iliad che vi mette nelle mani 70 giga di traffico, minuti ed sms limitati e soprattutto di quei 70 giga sono tutti in 5G per la strabiliante cifra di soli 9,99 euro al mese. Sono sicuro che se avete Vodafone, se avete Team probabilmente pagate di più per avere il 4G in questo momento. Quindi andate a dare un'occhiata al link in descrizione perché la promo di Iliad è veramente strepitosa, la state facendo già in tantissimi e vi consiglio di procedere subito perché non manca moltissimo alla scadenza. Link in descrizione. Tra l'altro col 5G questi miei video ricaricate anche più in fretta e non aspettate il buffering o YouTube che vi taglia la risoluzione per guardarli al meglio. Vi dicevo ci sono novità anche per quanto riguarda il VR. Infatti c'è un report da parte di Bloomberg e in particolare da Mark Gurman, fonte sempre affidabilissima nel panorama Apple che ci informano dell'eventualità di un lancio, probabilmente già quest'anno o al massimo l'anno prossimo, di un visore VR di Apple che sarà un po' il primo di una lunga discendenza di visori VR su cui Apple ha intenzione di puntare. Occhio, si parla di realtà virtuale. Per anni Apple ci ha detto che la realtà virtuale non era di suo interesse e avrebbe preferito la realtà aumentata. Abbiamo anche visto qualcosina su iPhone, però diciamo che la realtà aumentata, a parte qualche applicazione in ambito industriale, non ha trovato nel pubblico grosso interesse. Quindi adesso ci starebbero per riprovare con la realtà virtuale, cioè fondamentalmente un visore come l'Oculus Rift, come tantissimi altri prodotti, gli HoloLens, che ti metti davanti agli occhi e vedi una realtà completamente diversa. Secondo Bloomberg questo visore VR verrà annunciato a breve e sarà appunto molto costoso, però proprio perché Apple lancerà una sorta di prodotto demo per far sì che gli sviluppatori prendano confidenza con questo sistema. Sarà un po' l'on pod della situazione, un prodotto lanciato, analizzato per vedere come impatta sul mercato e al tempo stesso che dia modo in questo caso agli sviluppatori di realizzare app, software e quant'altro, perché saranno importanti per questo VR. Secondo gli analisti tra l'altro le vendite saranno limitate un po' dall'interesse del pubblico e un po' anche dal prezzo e si stima una vendita di 180.000 unità che per Apple sono veramente pochissime, probabilmente di iPhone in un giorno ne vendono di più. E all'interno per concludere ci potrebbe essere un chip M1 perché ormai abbiamo capito che Apple i chip se li farà da sola per tutto, se li fa per i Mac, se li fa per gli iPhone, se li fa per gli iPad, non vedo perché questo device debba fare un po' la differenza. velocissimamente sui Mac lo stesso report di Bloomberg ci dice anche che sono in arrivo dei nuovi MacBook Pro e un nuovo iMac, iMac con Face ID, quindi potrebbe essere una bella novità ma il Face ID sembra anche ciò che sta rallentando il lancio di questo nuovo iMac ridisegnato di cui vi ho parlato già in passato, mentre per i nuovi MacBook pare arriverà il supporto al MagSafe. Chiaramente il MagSafe sui Mac c'era già, ne abbiamo già parlato in un video, ma si intende in questo caso un MagSafe molto più universale e simile proprio a quello degli iPhone. Potrebbe non essere una brutta idea creare uno standard di connessione wireless che permette di caricare tutti i device, certo su iPhone ha senso come basetta, sul Mac probabilmente lo devi appiccicare sulla mela dietro, ma penso possa andar bene per molti. Sono curioso, sono curioso di capire come si svilupperà questo MagSafe o se magari alla fine andremo a scoprire che sarà proprio il ritorno della vecchia tecnologia che avevamo già sui Mac, che però questa volta non sarà con connettore proprietario ma con l'USB-C. Ci siamo, stiamo per parlare di iPhone 13, ma in realtà ve lo lascio come ciliegine sulla torta perché prima vi faccio vedere quello che potrà essere l'iPad mini 2021. Guardatelo qui, completamente senza cornici, scompare anche il tasto home, un'estetica molto simile poi a livello generale a quella frontalmente degli iPad Pro ed Air, però sul retro se potete vedere abbiamo anche una forma un po' più arrotondata, quella un po' più classica degli iPad, non squadrata come Air e Pro. Ma la cosa interessante è anche capire che le dimensioni restano uguali, ma le dimensioni dello schermo crescono, infatti secondo il report si passa alla bellezza di 9,19 pollici dai 7,9 pollici originari dell'iPad mini. E considerate che è uno step importantissimo. Il primo iPad e poi tutti gli iPad fino a quelli bezel-less, ma anche l'iPad attuale, quello base, hanno uno schermo con una diagonale di 9,7 pollici. Questo qui, questo mini, si avvicina al 9,2, quindi nelle dimensioni del mini però è veramente, diventerebbe veramente molto comodo avere un iPad così piccolo ma al tempo stesso con uno schermo così grande. E non so voi, ma io sono particolarmente curioso poi di vederlo ufficializzato, di scoprire il prezzo e di provarlo. Fatemi sapere se anche voi potreste valutare, magari per la prima volta, l'iPad mini a seguito di questa modifica nel design e nello schermo che lo renderebbe sicuramente più comodo in tante situazioni. Però passiamo ad iPhone 13. Due grosse novità riguarderanno l'estetica e la fotocamera. Per quanto riguarda l'estetica, beh, la notizia forse non farà felici tutti ma farà felice qualcuno perché si parla del notch. Il notch, no, purtroppo non scomparirà, ce lo terremo perché Apple pare non abbia ancora trovato una metodologia efficace per sostituire il notch ad un'altra soluzione e garantire la stessa velocità e precisione e sicurezza del Face ID. Quindi ci sarà ancora, ma secondo questi primi report pare che il notch sarà più piccolo. Vi dico la verità, abbiamo sentito le stesse cose un anno fa quando stava per uscire iPhone 12, poi alla fine sì, il notch lo si percepisce come più piccolo perché le cornici sono più piccole, quindi c'è più porzione di schermo, pochissima. Ma in questo caso chissà, speriamo che sia veramente un notch più piccolo, per quanto sono sicuro che molti di noi vogliono vederlo scomparire del tutto il notch. L'altra notizia però è interessante perché riguarda la fotocamera. Le fotocamere dovrebbero restare 3, dovrebbe restare la stessa anche il numero di megapixel, ma dovrebbe cambiare il sensore, dovrebbe diventare un po' più grande, dovrebbe arrivare sulla line-up intera, quindi non solo più sul modello Pro Max, lo stesso sistema di processing dell'immagine che abbiamo visto e studiato attentamente sul 12 Pro Max e poi ci potrebbe essere una novità importante per quanto riguarda l'ottica forse più debole di tutte le 3 che abbiamo sul 12 Pro Pro e 12 Pro Max e anche che abbiamo sui modelli base, cioè il grand'angolo, l'ultra grand'angolo che dovrebbe passare da avere un sensore da 5 megapixel a uno da 6 megapixel. Tutto questo speriamo porti anche ad avere una messa a fuoco su quella fotocamera che al momento ha una messa a fuoco infinita, un po' come fosse una action camera e che in molte situazioni effettivamente mostra ancora qualche limite rispetto alle proposte di altri brand. Quindi questi sono gli aggiornamenti su iPhone 13, su iPad mini di nuova generazione e su tutto ciò che succederà con iOS 15 e quant'altro. Se volete restare aggiornati su tutti gli sviluppi mi raccomando seguite il nostro sito internet iphoneitalia.com, seguiteci sui social che sono tutti linkati qui sotto in descrizione, se invece volete restare in contatto con me anche per la vita di tutti i giorni, mi raccomando seguitemi su Instagram perché sono sempre abbastanza attivo e quindi vi aspetto lì anche per discutere magari di ciò che abbiamo visto in questo video. Un saluto e a presto, sempre qui su iPhone Italia.com. Ciao!